Salve cari amici, amici degli amici, nell'antivigita di Natale del 2017, a nome mio e dell'Associazione Culturale Radici, voglio porgervi i più sinceri auguri di Buon Natale e lo voglio fare con una lirica dell'Avvocato Giovanni Verde, primo direttore del Museo Civico del Torrione Giovanni Maltese. Lirica con dedica al caro amico poeta e scultore Giovanni Maltese. Di Giovanni Verde, Gastronomia. Donar dei versi è cosa assai cortese, ma se di vuote cortesie soltanto si nutrisse ciascuno, ogni paese tosto diverrebbe un campo santo. Non metto in sangue i versi nelle vene, ma se il mio canto insegna la cucina, questa chitarra mia giove conviene, più che la cetra greca e la latina. Tu mi apprendesti a farla fettata, col piedibue davvero arci squisita. Ora ti insegno anch'io una portata da farti, amico mio, leccar le dita. Canto, e non canto il polo alla tartana, oppure gli scaloppini alla comasca. Non ti celebro il manzo alla sultana, né il tordo al Malaga o alla bergamasca. Non glorifico, certo, il lepre al forno, tampoco i fegatini alanensi, ma un pasto, t'assicuro da ogni giorno, è fatto apposta per il venerdì. È un magro, bene vero, ma ormai assorto, in tempi magri, a grande dignità. È del merluzzo, che allora quando è morto, diventa stoccafisso o baccalà. Il rito dunque, apprendi a poco a poco, onde lo stocco debbasi onorare, su quell'ara dove arde il sacro fuoco, detta profanamente il focolare. Con un vignitoso inceder vanno in piazza ed un intero mastellon riscatta. Torna, deponi e armati di mazza, pronto a sventar le trame della gatta. Poni il pentolo al fuoco, asciutto e netto, versavi l'olio e poi gli ingredienti. Ma che? Il vocabolo ti fa dispetto? Perché stanno negli occhi e ti spaventi? Su via! Non è il tartufo né il funghetto, esuli della scorta di famiglia. Non sono gli intingoli dei quali un etto costerebbe la dote di una figlia. La famosa cipolla ben tritata di quelle che ti spruzzano negli occhi vada all'aglio odoroso accompagnata ai capperi, alle olive e dai pinocchi. Di questa inclita accolta e biricchina la passola intervenga al concistoro e vi faccia, si sa, una capatina il rubicondo eterno pomodoro. Proclamo, infine, che ci torna giusto dal bruciante sapore il peperone. Ma su di questo interroga il tuo gusto e fa tu stesso la proporzione. Forma di tanta grazia un primo strato sull'ampio fondo della casseruola e coprilo di stocco tagliuzzato e rischi via nemiche della gola. Versa di ancor dell'olio a quando a quando il sale ben si intende che vi sia e strato strato al fin così alternando termina con cipolla e compagnia. Con una carta copri la pignatta e ve la leghi a guisa di tamburo. Poscia il coperchio sempre vi si adatta e un peso su per essere più sicuri. Non agitar la ventola sta accorto deve cuocer lo stocco a fuoco lento. Lo disse un monaco che adesso è morto anzi lo consacrò nel testamento. Venti minuti deve bollicare non siano diciannove né ventuno. Rompi la carta poi fatto sventare portalo a tavola e si serve ognuno. Questa delizia oh che delizia cotta cotta nel modo che ti ho detto in rima s'appella stocca fisso alla galeotta ma la gente da ben ne ha grande stima anzi al par di colui che l'ha inventata un galeotto onor delle galere che ebbe perciò la grazia meritata e fu fatto per giunta a cavaliere. Così questa pietanza appetitosa prima nel pentolone chiusa in prigione poi libera fumante e profumosa viene agli onor dell'imbandigione. prepara un fitrion quel che più giova quel trofeo di bottiglie impolverate che son l'orgoglio della tua canova qui si parrà la tua nobilitate perché il vino se vinco si opportuno che nel far queste rime stamattina non accorgendomi di star digiuno ne ho bevuto un bicchiere ogni quartina. Buon Natale.